ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco mate diet a cosa serve mate diet a un parafarmaco appartenente alla categoria degli alimenti dietetici adatti ad un intenso sforzo muscolare per sportivi e commercializzato in italia dall'azienda e di spa gruppo alimentare dietetico informazioni commerciali titolare a di spa gruppo alimentare dietetico concessionario a di spa gruppo alimentare dietetico categoria di appartenenza alimenti dietetici adatti ad un intenso sforzo muscolare per sportivi confezioni mate diet sport proteine veicento prodotto dietetico per sportivi e base di proteine con edulcoranti 400 g indicazioni le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare la vitamina b6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno modalità d'uso miscelare il contenuto di tre misurini 30 g di polvere in 150 ml di acqua naturale o latte assumere una porzione al giorno lontano dai pasti e almeno un'ora prima degli allenamenti descrizione e caratteristiche proteine in polvere veicento matt e dieta un prodotto dietetico in polvere a base di proteine di alto valore biologico isolate dal siero del latte mediante un processo di micro e ultra filtrazione e arricchite con vitamina b6 ha un ottimo sapore di cacao ed altamente solubile avvertenze conservare in luogo fresco e asciutto il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra non superare la dose giornaliera consigliata il prodotto deve essere utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico allergeni latte soia componenti e ingredienti proteine isolate del siero di latte cacao magro in polvere 6 per cento aromi emulsionante lecitina di soia edulcoranti sucralosio acesulfame k vitamina b6 piridossina cloridrato analisi ingredienti informazioni nutrizionali per 100 g per dose 30 g energia 1658 k lunga 392 cal 497 k lunga 118 cal grassi di cui acidi grassi saturi 6,4 g 4 g 1,9 g 1,2 g carboidrati di cui zuccheri 7,9 g 4 g 2,4 g 1,2 g fibre 3,6 g 1,1 g proteine 74 g 22,2 g sale 0 e 32 g 0,0 96 g vitamina b6 4,7 mg 333 per cento vnr 1,4 mg 100 per cento vnr fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato